Riders for Riders Sosteniamo un progetto che è in corso in Svizzera, a Lausanna e naturalmente parte dei fondi li impieghiamo per sostenere ed aiutare tutti i ragazzi gravemente infortunati. Oltre a Ride for Life cerchiamo naturalmente durante l'anno con la raccolta del 5x1000 sulla dichiarazione dei redditi e con altre attività collaterali di continuare a raccogliere fondi ma soprattutto di sensibilizzare tutto il mondo del motociclismo verso questi problemi. Il nostro prossimo appuntamento sarà il mondiale maggiore di motocross, già siamo stati a quello di Arco ed è da 5 anni che continuiamo su tutti i campi di battaglia motociclistici a promuovere questa attività. Dunque, noi spaziamo un po' in tutti gli ambiti motociclistici già nel nostro manifesto che ogni anno propone diversi volti del mondo del motociclismo. Potete dedurre che Melandri, Salvini, Dovizioso e tanti altri tutti i nostri testimonial saranno presenti ma non solo perché avremo tutti i campioni del ciclismo nazionale, qui abbiamo Nibali come testimonial di quest'anno ma li troverete proprio tutti quelli del Giro d'Italia perché con la Marina Romoli Onlus supportiamo naturalmente la ricerca anche con loro che è la loro stessa missione. A Maggiora ci saranno tutti i piloti del motocross mondiale che supporteranno con delle bellissime iniziative la Riders for Riders.